Continuano le indagini per far luce sul caso dell'omicidio di Alessio Cini, il tecnico di 57 anni trovato morto semicarbonizzato lunedì mattina davanti all'abitazione di Ponte dei Bini ad Agliana, dove viveva insieme alla figlia 14enne. Dopo gli esiti dell'autopsia, i carabinieri coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Pistoia, Leonardo De Gaudio, sono tornati sul luogo del delitto. Lo hanno fatto principalmente per accertare con il massimo dettaglio la dinamica dei fatti. Dopo che l'esame autoptico ha indicato come Cini, nelle prime ore della mattina di lunedì 8 gennaio, sia stato colpito quasi in un agguato con un colpo alla testa, mentre si trovava davanti casa. Sia stato poi ulteriormente picchiato una volta a terra e infine dato alle fiamme. Ancora non si è trovata ad esempio quella che potrebbe essere l'arma del delitto, ossia l'oggetto usato per sferrare il primo colpo alla testa. Abitazione Salma sono per questo ancora sotto sequestro e a disposizione degli inquirenti, i quali tassello dopo tassello stanno ricostruendo con sempre maggiore dettaglio la trama di questa terribile vicenda.